Taglio del nastro a Misano World Circuit Marco Simoncelli per l'edizione 2024 di Italian Bike Festival. Al Salone Internazionale di Riferimento B2B e B2C dedicato alla bici e alla mobilità slow e sostenibile, organizzato da Movestro con il supporto di APT Servizi Melo Romagna e Visit Romagna, sono presenti oltre 600 brand di settore. Ricco il programma di eventi nella tre giorni. Sabato, apertura dalle 10 alle 19. Domenica dalle 10 alle 18. L'accesso è gratuito con registrazione obbligatoria sul sito italianbikefestival.net. L'IBF Italian Bike Festival è un evento molto importante, è una delle fiere, la fiera più importante in Italia, è una delle fiere più importanti in Europa, anche perché ha un format speciale e particolare, la possibilità di avere l'autodromo, la possibilità di avere strade, la possibilità di testare tutte le cose nuove che le aziende propongono. Sono ben 360, un record assoluto. L'anno scorso è stato un grande successo con 60.000 presenze e quest'anno pensiamo e speriamo di fare ancora meglio. Devo dire che ormai l'Italia My Festival si è posizionato come l'evento di riferimento in Italia e le attività sono veramente tantissime, in primis il fatto di poter testare le biciclette veramente su dei circuiti interessanti, in primis le bici da strada, le Urban City nel circuito mitico di Misano che è un'esperienza incredibile e anche le mountain bike sempre all'interno, nella flat track abbiamo fatto proprio un percorso mountain bike molto impegnativo. È un settore molto importante perché alla fine bisogna comunque con un occhio naturalmente sulla race, sulla corsa ma anche su tutto il resto che è altrettanto importante, tra l'altro sai anche con la bicicletta elettrica il mercato si è aperto con questo nuovo settore, con queste nuove biciclette che permettono a tutti di poter fare qualcosa che fino a poco tempo fa era quasi impossibile.